Le officine indipendenti chiudono perché non sono mai state concepite come un'associazione di baristi, né tantomeno un'associazione che doveva nascondere tramite la somministrazione un'attività commerciale e non sono mai volute diventare, non lo vogliono certo diventare oggi, dopo diversi anni, un ghetto all'interno della città. Quello che abbiamo constatato è la totale indifferenza rispetto a un cambiamento anche di amministrazione comunale e vogliamo sfuggire appunto all'interpreterare un ruolo che non ci interessa. Noi vogliamo apportare una trasformazione all'interno della nostra città, riaffermando delle cose basilari, che una città deve vivere se stessa, deve avere dei locali che fanno musica dal vivo al centro della città e in questo caso in parte siamo riusciti a farlo. Oggi rilanciamo, sebbene con questa chiusura chiudiamo anche il comitato provinciale dell'Arci a Teramo, rilanciamo chiedendo al comune se è disponibile a incontrarci per la costruzione di un progetto di riqualificazione urbana per mezzo di una cooperativa di comunità dove non sia più un soggetto, ma siano più soggetti a poter gestire uno spazio di aggregazione giovanile all'interno della città che comunque da oggi viene a mancare. Con le officine si chiude una dimensione personale ma collettiva che meriterebbe un po' più di attenzione. Grazie 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 Grazie